Hanno agito perfettamente, commenta così Angelo Candido, il pronto intervento dei tre vigili del fuoco che la notte tra 4 e 5 novembre 2019 persero la vita a causa dello scoppio di una cascina a Quarniento in provincia di Alessandria. E tra di essi non solo colleghi ma anche e soprattutto il compianto e amato figlio, il regino Nino Candido. È ripreso infatti ieri mattina il processo presso il tribunale della città piemontese e fuori da palazzo presenti i rappresentanti sindacali oltre che amici e colleghi delle vittime con indosso una t-shirt bianca con i volti di Marco Tricchess, Matteo Castaldo e Antonino Candido appunto. In aula invece sul banco degli imputati i due colpevoli Gianni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco accusati di omicidio volontario plurimo per incassare i soldi dell'assicurazione. Per loro il procuratore Enrico Ceri aveva chiesto 30 anni di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti. Adesso la difesa della coppia ha chiesto di derubricare il reato contestato dall'accusa in omicidio colposo con il riconoscimento delle attenuanti generiche della semi-infermità. Secondo la tesi avanzata dall'avvocato di Vincenti Lorenzo Repetti i vigili del fuoco non dovevano entrare in quanto non vi era nessuno da salvare in quella cascina, in quanto non vi era alcun dovere di sicurezza a cui obbedire. Il legale chiede altresì che venga accertato se il caposquadra abbia o meno dato l'ordine corretto oppure restando ferme le responsabilità in capo al suo assistito, responsabilità colpose peraltro. A difesa delle caposquadra Giuliano Dodero rimasto ferito durante l'esplosione di quella notte e il padre di Nino Angelo, oggi caporeparto a Reggio Calabria, nessuna imprudenza ferma. Quando sono stati avvisati i coniugi vincenti potevano dire che ci sarebbe stato un altro scoppio e far allontanare tutto e tutti. Il caposquadra agito perfettamente in quanto a fine di ogni intervento di norma si fa un rapporto sulla zona in cui si è intervenuti lasciando in sicurezza il luogo anche solo dopo un accurato controllo visivo. Parole shock, quelle della difesa che non passano inosservate e che offendono soprattutto la dignità delle famiglie e delle vittime, tra cui quella di mamma Marina e della sorella di Nino Ilaria, presenti in aula, che non possono far passare la giustificazione secondo la quale i timer sarebbero stati azionati alla stessa ora e che vincenti pensava che il secondo non avesse funzionato e non poteva in quel momento rendersi conto di quello che stesse accadendo. E dall'esterno della corte da Sisera riecheggiano le parole che campeggiano sul nostro iscione su cui scritto salviamo la vita degli altri, il resto conta poco e si grida all'ergastolo.